Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato nel giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come versare in maniera perfetta evitando di sbrodolarti addosso mentre versi con il metal pooling free pooling. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satrio, liquore pineto nella sua nuova veste e Vermouth Mita, ma adesso andiamo a scoprire come funziona il focal point. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Stanco di farti la doccia mentre versi con il free pooling? Bene, oggi ho la soluzione per te, stami a guardare. Ok, ok, sicuramente se l'ombrello non si ha, in realtà io ero più preoccupato per non sfondare le bottiglie, era solo quello il discorso. Ok, quindi perché ho deciso, a parte la parentesi un po' scherzosa, perché ho deciso di registrare questo video? Perché come sicuramente sei spiato un po' i miei profili e sai che insegno e spesso con i ragazzi che stanno cominciando, ma è la cosa che è successa anche a me quando ho cominciato, era quella di sbrodolare o sbrodolarsi addosso o di sbrodolare, insomma, sul tappetino o sulla station del liquido, che in questo caso è acqua. Però, immagina, insomma, se stiamo versando un distillato e quant'altro e non prendiamo bene la mira e soprattutto quando andiamo in chiusura, tendiamo a far uscire il liquido fuori dal, o dal tin, diciamo, dallo strumento o dal bicchiere. Quindi una delle cose che viene utilizzata, diciamo, una piccola tecnica, un piccolo accorgimento che viene utilizzato è appunto il focal point. Il focal point non è altro che, diciamo, un prendere la mira quando si versa, o nel bicchiere o nel tin. Per facilitare questa cosa qui, che magari a livello visivo a volte è difficile, ho deciso di introdurre un elemento che è facile da reperire anche a casa, ok? Che è un imbuto né più né meno. Quindi come funziona di solito? Di solito quando andiamo in versaggio free pouring, prendo appunto la bottiglia, per esempio il mio forend, e vado a versare. Il problema non sorge quando sto versando, ma quando vado in chiusura. Quindi quando devo chiudere il flusso. Ti ricordi, no? Quando ne ho parlato del free pouring. E in questo momento qui, quando vado a chiudere, se io rimango nel punto in cui stavo versando, automaticamente il, come vedi, il beccuccio ad osatore, quindi il metal pour, in questo caso è un plastic pour, quando, se io semplicemente chiudo, il flusso andrà, uscirà un po' fuori, un po' me lo desserò addosso, ok? Quindi che cosa dovrò fare? Dovrò semplicemente cercare di continuare a versare, semplicemente facendo due cose, o sposto indietro il tin o il bicchiere, a seconda di quello che sto utilizzando, ok? Oppure vado indietro, o tiro verso di me il tin, oppure vado indietro un po' con la bottiglia mentre sto versando, ok? Guarda un po' il movimento, ok? Per facilitare questo, adesso te lo faccio vedere anche con una bottiglia piena, per facilitare questo è un po' come, forse per i maschietti questo qui è un po' più facile, quando nel, nell'orinatoio delle, degli autogrill mettono tipo la coccinella o la moschetta attaccata, ok? Che noi ci divertiamo un pochino a prendere la mira, più o meno funziona allo stesso, allo stesso modo, ok? Quindi per le donne non so come possono fare, però un po' il senso è quello lì. Quindi andrò a mettere un inguto al centro e dovrò far fin, dovrò cercare, dovrò impegnarmi a versare nella parte centrale, ok? Questo qui è il focal point, te lo faccio vedere, quindi ti faccio vedere come farsi la doccia in pochi semplici mosse e come evitare di farsi la doccia in pochi semplici mosse. Quindi prenderò la mia bottiglia, in questo caso ragazzi c'è acqua, ok? E vado a versare con, boh, una tecnica, la forend, ok? Quando vado a versare, se io semplicemente faccio questo, vedete che esce di fuori. Se io invece a questo punto, quindi vado a versare e vado un po' indietro con la bottiglia e chiudo il flusso. Oppure posso versare e tiro un po' verso di me il tin e chiudo. Per facilitarmi, appunto, farò questo. Metterò il mio bel imbutino e andrò a versare al centro. A questo punto, quando devo chiudere il flusso, andrò un pochino indietro e chiudo. Spero che si possa vedere, provo a fartelo vedere anche in un bicchiere trasparente, in questo caso un bicchiere di plastica, così, insomma, se ci dovesse cadere non è un problema, ok? Ripeto, così, come puoi vedere, vado al centro e quando vado in chiusura, tac, e chiudo. E ho un riferimento visivo molto semplice. Questo è un piccolo trucchetto e tutto qua, insomma, ragazzi, è abbastanza facile. Chiaramente, a livello un po' più professionale, puoi utilizzare, per esempio, questo qui, che è un perfect pur, o pur perfect, insomma, come che lo chiamano, e va inserito direttamente nel tin, in questo modo, e questo difunge sia da, diciamo, per avere una concentrazione di focal point, sia come, diciamo, per misurare ogni volta, quando fai un conteggio, per esempio, di precisione. Questo qui, quanto pare che lo tiri su e c'è la versione sia in ml che in once, ok? Io spero che ti sia testo questo video, insomma, semplice, però, sicuramente, se sei alle prime armi, è una cosa normale. Chiaramente, non ti preoccupare, se dovesse succedere, insomma, che sbrutere un pochino fuori, non è un problema, però, cerca di fare quanto più pratica possibile e questo ti permetterà di essere sempre più preciso e sempre più veloce. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice in su, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta nei commenti per, magari, scrivermi se c'è qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Mi raccomando, non fartelo addosso e noi ci vediamo presto, anzi, prestissimo. Alla prossima, ciao!